Fano e Pesaro oggi trova le differenze. È il posto pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di progetto Fano Alberto Santorelli che con due foto sulle relative città ha messo in evidenza le divergenze. Mentre allo Sport Park si annullava un concerto, a Pesaro ballavano i migliaia sulla spiaggia. Siamo seduti e abbandonati dall'amministrazione comunale, ha scritto in una nota a Santorelli. Quando è ora di agire, mettono il bavaglio a chi vuole fare musica. Infatti, prosegue la commissione di vigilanza presieduta da un assessore delegato dal sindaco, non ha concesso le deroghe di decibel necessarie per svolgere il concerto di ieri sera. Sto già scrivendo un'interrogazione, ha concluso il consigliere d'opposizione. Sarò curioso di vedere cosa risponderanno questa volta in consiglio comunale, sapendo che ho ricoperto il ruolo di presidente della commissione di vigilanza per quattro anni e non è mai avvenuta una cosa simile. Scandaloso quello che è successo. Stiamo parlando di un'iniziativa dove il privato ha investito importanti somme per portare a Fano tanta gente, tanti turisti, per fare intrattenimento in una settimana come quella di luglio e l'ha fatto concordandolo anche con l'amministrazione comunale. E qui veramente viene fuori tutta l'incapacità di questa amministrazione comunale che non è stata in grado di garantire le deroghe necessarie per i decibel, quindi per far suonare la musica e ha permesso a un privato, a un cittadino, quindi chiamando l'ARPAM, poi di vedersi costretta a interrompere il permesso perché erano stati sforati i decibel consentiti. Ma quei decibel evidenti che non sono, non sono sufficienti per concerti di questo tipo andava fatta un'altra deroga, ma come è già avvenuto durante la scorsa estate, anche questa volta l'amministrazione ha deciso di mettere il bavaglio a chi vuole fare della musica.